Uccidete Calaf di Roberto Iovino, nuovissimo libro pubblicato sul finire del 2022 in cui si raccolgono 50 anni di critica musicale. Roberto Iovino con questo libro, infatti, che ha per sottotitolo 1972-2022, ha celebrato con noi, siamo molto lieti e orgogliosi, i suoi 50 anni di critica teatrale, i suoi 50 anni di militanza nella critica teatrale e musicale, musicale in particolare, sulla prima linea dei teatri, delle opere, delle rappresentazioni, in particolare di Genova, ma non soltanto di Genova. Roberto Iovino ha al suo attivo una carriera straordinaria da molti punti di vista, oltre a quella del critico musicale, è stato direttore del Conservatorio di Genova per molti anni, è stato presidente degli Amici di Paganini, è oggi il direttore del Centro di Studi Paganiniani. Il libro offre una varietà di spunti anche perché è un libro composito, è un libro che raccoglie varie esperienze, testi anche molto diversi, alcuni di questi recuperati dall'esperienza di Roberto Iovino, dall'esperienza che l'autore ha percorso negli anni, altri invece prodotti ex novo, prodotti appositamente per questa pubblicazione. La prefazione, l'introduzione, anzi è di Paolo Lingua. Paolo Lingua non ha bisogno di presentazioni, è fra i più celebri giornalisti genovesi, giornalisti e scrittori, anche poiché sono suoi libri importanti sulla storia della città. Paolo Lingua tenne in qualche modo a battesimo la nascita di Roberto Iovino in quanto critico musicale e questo sodalizio, questo legame originario si riesprime proprio nel libro Uccidete Calaf. Dice Paolo Lingua il libro è eterogeneo, così come un libro di questo tipo è quasi per forza, ma nello stesso tempo varissimo, nello stesso tempo capace di reggere senza sbavature il filo rosso della lettura. Così è infatti, non è solo Paolo Lingua ad affermarlo da par suo, ma lo è anche il lettore che immediatamente si rende conto in quale matematico modo proceda Roberto Iovino nell'innestare, inannellare l'uno nell'altro i testi che si presentano al lettore. E' interessante quella porzione mediana del libro in cui Roberto Iovino, come probabilmente tutti i giornalisti che siano degni della propria professione, del proprio nome, sogna le interviste impossibili. E la critico musicale qual è? Professore del conservatorio e illustre studioso di musica e di storia della musica, il suo sogno si esercita nell'incontro, intervista impossibile con tre personaggi della storia musicale fra i grandissimi, Paganini, Beethoven e Mascani. Beethoven viene incontrato una sera a casa sua, Paganini viene incontrato nella finzione del libro a casa dell'amico Germi, dell'avvocato Luigi Guglielmo Germi, Luigi Guglielmo Germi, che ospite di entrambi, ospite del critico musicale e ospite di Paganini, li siede attorno ad una stessa tavola. Si parla poco di musica, sorprendentemente. Paganini preferisce parlare con il suo intervistatore, giornalista Roberto Iovino, a Genx preferisce parlare di cucina, preferisce parlare dei gusti semplici della cucina ligure, che sappiamo dalle testimonianze scritte quanto egli amasse. E poi ad un certo punto, quando il critico intervistatore, giornalista Roberto Iovino, agens, personaggio nel mentre della conversazione, si mostra a Paganini particolarmente informato, Paganini fa una profezia. Lei, caro giovane, è molto informato, certamente farà un'ottima carriera, certamente sarà un ottimo giornalista. Leggendo questo libro retrospettivo, nato per il cinquantennale della critica musicale, nato per il cinquantennale da critico musicale di Roberto Iovino, siamo sicuri e certi che la profezia di Paganini si sia del tutto realizzata. Buona lettura con Uccidete Calaf e continuate a seguirci per nuovi consigli, nuove occasioni di parlare di libri e altre iniziative culturali.